possiamo aggiungere che accedendo al supremo potere noi dobbiamo secondo consuetudine cambiare i nostri nomi di angelo giuseppe in quello di giovanni che non era stato preso da nessun altro papa da cinque secoli nonostante ciò noi abbiamo custodito il primo nome quello di angelo che la devozione santi angeli ci accompagni dunque e sempre durante il nostro pellegrinaggio terreno quanti rischi non dobbiamo affrontare sia da parte degli elementi della natura in rivoluzione sia dalla collera degli uomini penetrati nel male ebbene il nostro angelo custode è sempre presente non lo dimentichiamo mai invochiamolo sempre così giovanni ventitresimo